Ecco ragazzi, 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 scrivete, aspetta che devo scrivere che sono tornato Vediamo se sono dentro ancora Tornaio Bellissimo ragazzi, ho scritto tornaio, non tornato Allora, eh sì, praticamente mi ha buttato giù la live ragazzi Ma non è per la linea, ma è il gioco che ha un po' di problemini ancora Sono queste tipologie di giochi come Warzone, comunque, che hanno dei seri problemi Mi riesci a invitare, Morris? Sì Grande Eh, scusate ragazzi che è saltata la linea, non è colpa mia, è saltato anche il drago, tra l'altro Povero drago Bisognerebbe metterlo, eh Allora, mi ha invitato, vediamo, 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 sì, perché non mi arrivano i messaggi Grande Uniti al gruppo Dai, dai, raga, dai, raga, dai, raga Però, allora, però Però C'è sempre un però Esegui un emote qualsiasi cinque volte, eh Come si fa a fare l'emote? Morris Con i tasti? Con le frecette Ah, ok Bisogna far cinque emote ci da cinquecento, cinquecento cose ci fa Ci da cinquecento cose blu, viola Sì Davvero, cacchio Compro le cose Eh sì, si è chiusa la live Ma se non mi cassa niente Cioè, mi prende quelle più belle Vabbè, certo E poi ci sono le cose che sono le più più belle E contro quelle Sound Alert Ciao amico, ma in realtà non ho iniziato la live adesso È un rifare la live perché se la chiusa malamente Tra l'altro Io saluto sempre Sound Alert e Stream Elements, eh Ciao Stream Elements, eccolo qua I megabot che ci sono su Twitch Allora Questa è quella di prima Quella che io ho fatto bene Sì, sì, allora ci sta Mi piace Sì, sì, ci sta Ci sta, ci sta Grande Giulie Ci siete tutti? Ci siete tutti? Ci siete tutti tornati? Scusate ragazzi Se è chiuso il gioco E quando chiude il gioco Chiude la live Il problema proprio di Playstation è questo qua Olly è arrabbiatissimo Eh, sì Eh, ma io se non compro computer Amico mio C'è poco da sistemare A me C'è solo una questione di settaggio Ma ho visto un computer un po' Un po' bellino Sono 2000 euro Maury Cioè È assurdo Cioè, sto streamando Faccio live C'è la web Anche a te Vedi che si cresce Porca Dai, facciamo questa Tanto moriamo presto Maurice Tempo che riavvi Tu sei ancora dentro, Maury? Bravo Porca Appena sono caduto Sono caduto anch'io Simbiosi, eh No, no, no Stanno già arrivando Sì, sono crashato Di lì che sono ritornato Però L'ho riaperta la live Mamma mia Che casino Ste palle Ah, proprio Dovevi stirarmi palla, eh Due volte dovevi stirarmi Mi raccomando, eh Sì, se l'ho fatta Ha fatto anche me così comunque Prima, Maurice Ti cresce proprio il gioco, vero? Eh, fa così Fa così L'ho già fatto Sono lì Tornati i panini Giulia Sono ricordati i panini C'è anche una gallina Guarda Sì Un polo Un polletto Una gallina La gallina sotto Giulia vede solo gli hamburger Un toast Giulia Che è più leggero Un toast Un toast Oh my god No Un toast Questo lo odio Ragazzi Questo non è bello Questo No Bello No Bello Sì È inutile che mi fai vedere il circuito Perché poi non funziona così C'è delle robe strane Che succedono Nel circuito Sì Sì Ma è in Francia Non lo so Non abbiamo Chiedi Ma è in Francia A casa tua Oggi stavo lavorando Penso che Dai 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 che ce l'ho fatta Come sei messo Maoli Grande Ti vedo Ti vedo Ti vedo Ti vedo Ti vedo Ma porca No Mi ha Sperito Mi ha spedito Chissà dove Cosa mi è morto Ragazzi vi saluto Ci vediamo domani Nota a tutti Bella live Mi sono divertito Grazie 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 amico mio Grazie lord Dai 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 Adesso anche noi Facciamo Una mentira di minuti E chiudiamo anche noi Oh Cosa è successo Cranade Scharder Scusami ma è saltata la live Perché si è saltato il gioco No si è saltato il gioco Non è italiano Però fa niente È saltato il gioco Notte lord Ci vediamo domani Con gran turismo Dai amico mio Buonanotte 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 Fiorellino Buonanotte Mio lordino Fai tanti Sonni felici Pensa a Marco Drumsui No 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 Grande mauri No porca loca È vero Giulio Forse anch'io Forse anch'io Si 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 Ce l'ho fatta 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 vai scappa oa grande giulia sì sì tanto facciamo fino alle 11 e un quarto dai si vede il simbolino della stessa no lo penso anche lei ma probabilmente con tre simboli non glielo fa vedere bisogna toglierne uno allora giuli lasciarlo lo fa vedere perché sarebbe in teoria due perché quello in mezzo è un abbonamento chardere due tu giure 6 3 per quello che forse penso non lo so no c'ha delle idee di tre ma perché penso che sia uno per uno all'abbonamento a qui e sopravvivere porca loca assoluto ho preso bisogna andare indietro bisogna andargli no però succede attenzione si a quello si butta fuori no ti ha buttato fuori amico mio no dai poverino no è sicuro meno giochi o ecco così ci guardi ancora di più dai sono fuori anch'io non l'ho fatto apposta raga ma ha preso proprio di striscio vai sì quando è così è assurdo che saltare live è capito siamo vedi moderatrice artista quindi c'è perché editor prova adesso vedere giuli e ma colpo di vita non ti aiuta no moderatrice si metti odito per terzo e non lo so non lo so giuli allora sei editor moderatrice artista quindi non so perché non ti fa vedere sinceramente però sharder dov'è che ne ha solo due vedi è moderatore artista quando ne hai tre non te ne fa vedere uno non te li fa vedere tutti e tre non so che cosa voglio dire editor giulia bellissimo e non sapere come funziona oh scusa no sempre due moderatore eh infatti io stavo aspettando te allora in vista eccolo qua no secondo me perché hai tre ruoli giulia sei l'unica che ha tre ruoli gli altri tutti due quindi praticamente no anche zan e boi ne ha tre e non so come si vede zan e boi quando scrive quindi o ti tolgo da editor che non so cosa voglio dire vai a vedere che cosa fa l'editor su twitch domani ti informi al massimo ti togli editor così si vede moderatrice artista come sharder eh se no va bene così domani informati cos'è l'editor su twitch grandi ragazzi benvenuti ribenvenuti ragazzi perché la live non è iniziata adesso ti ho invitato no ho anche le prove è tutto 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 nella mia live invitato è arrivato o no se lo fai tu la lobby però io che lo stavo guardando ah ok ok però io che lo stavo guardando ah ok ok e no perché l'ho invitato andiamo a trovare ok oh grandissimo pronti 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 partenza e via sì grandissimo maris con gli occhialotti proprio tamarro vabbè anche anche maurizio lo scherzo che bello quel coccodrillone ma tu se le hai altre cose da mettere inizio? sì però non ho capito non ho capito perché mi ha fatto partire dal livello 1 perché ha detto che ci ha una cicamala una cicamala ma no fuori il fiorellino lo vedo una cicamala una cicamala fiorellino lo vedo se non poi mi confondo con gli altri una cicamala che è il cicamala e moris dai poi fammi sapere moris beh mercoledì rimaniamo che giochiamo a warzone fammi sapere se c'è Michele così o meno lo mettiamo nelle nelle copertine da pubblicità certo certo fai tu allora io facciamo la live io e te e tu invita chi vuoi ok se no poi è un casino perché entra troppa gente troppa gente è un burdel beh Giovanni mi sono ricordato Giovanni vero? ho detto giusto? Giovanni è perché glielo ho promesso infatti lui infatti Giovanni mi ha detto no io non posso giocare ma certo Giovanni non è che è che non stiamo giocando a warzone non è che non vogliamo farlo giocare cicciotoso cicciotoso è bellissimo cicciotoso cicciotoso lord lord è anana adesso cicciotoso è anana dormi lord dormi lordino se no si svegli eh ma lui sente scusami dai che son 42 dai che son 42 porca loca porca loca in centro? grande no ok grande no adesso no no ah quello è quello stupido di prima ce l'ho fatta si c'è anche una palla qui aspetta che prendo uno non ti faccio passare grande siamo passati tutti incredibile ragazzi incredibile quello è morto così volando e questo? lo squaletto è rimasto di lo squaletto sei lì? sei lì? si guarda guarda sto provando e di che saluta ciao bellissimo ragazzi la squadra la squadra d'oro marco moris e maurizio siamo passati tutti grandi grandi ecco la papera la paperella facciamo un sacco di roba hanno messo un sacco di personaggi ne ma la latina no la latina si ne hanno messo un sacco ma perché adesso tipo cos'è stagione 4 5 6 vero che è tantissimo forse magari la 3 però è già un po' che è fuori sto gioco un annetto almeno però continuano a mettere robe nuove questo è un po' il Takeshi Castle che si vedeva una volta su Italia 1 si anche sul telefono c'è ma no ma davvero ah deve scaricarlo ah sul telefono c'è ah sta un po' il gai quasi quasi è molto più bello di questo non c'è proprio è veramente che figo c'è la latina però eh mori la latina è figa porca questo è difficile questo è difficile centrare il buco e il buco due volte è saltato porca loca no no mo che cazzo ma lo so eh lo so è sto tv che continua a entrare a Google mi ha caricato il video del buco ma vaffanbrodo anche a Google ma dai ma si ricomincia tutto da capo ah ragazzi mettetemi già tra i morti ma cos'è cos'è che no no questa qui è interribile ce l'avevi fatta amico mio si si io so ce l'avevi fatta ah devi passarlo con il tributo eh è difficile vedi l'altro vedi l'altro vedi l'altro non so se sconsigli ma è se da onde oh ovviamente dica quindi è meglio che vi arriva le volte e entra in un buco ah dici ah b si si cioè se prende list non si beh 22 2 dai no dai grande grande moris sì signore a e i grandissimi papà il gioco dei buchi tiadesi la gallzzare il gioco dei buchi concharsi Zion descone olito che g Luft che sanno hai hai ho una foto qua, twitter eh? ma chi? ehm... telegram ah no, vabbè buon bello chi? twitter? no, telegram superman grande no, sei caduto vai che c'ha le ali anche grande vai che quelle ali lì ti portano in alto oh, mica tanto spera caduto ahahah weeeh, Verset grandissimo sei ritornato, amico mio è cresciata prima la linea no, in realtà è cresciato il gioco il gioco del magnat scritto laggiù lì ehm, morì il gioco del magnat l'ho fatto riventare dai 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 grande cosa devi fare? Bravissimo Vai dentro Non rischiare Epic Games dovrebbe sistemarlo Eh sì Anche a Morris gli è crashato due volte stasera Infatti ti dico è un po' strano Pensa se crash adesso Quando sarà gratuito Quando sarà gratuito Morris Sarà un disastro Eh io penso che dopo sarà Veramente un casino ragazzi Altro che il 21 giochiamo Mi sa che bisogna aspettare un mese Ma che poi Che giorno è il 21 Vabbè martedì prossimo Secondo me crashano i server Notte amico miei Amici miei Allora di nuovo Allora Secondo me è quello dei buchi Devi fare nove Nove buchi Cioè nove robie Sei buchi Sei buchi Ah scusami scusami è vero hai ragione Nove sono i tipi che si Che si 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 Quello Manuel Grandissimo Guarda che gioco abbiamo portato stasera Manuel Benvenuto Manuel Nooo che balordo Ciao ragazzi Come state come state Tutto bene Stasera abbiamo portato Fall Guys Con l'amico Morris E il mitico Il mitico Sentite bene Il mitico Maurizio sta giocando con me Basta me ne vado solo per il gioco No no Manuel è bellissimo Fa troppo riderissimo Questo qui è Maurice Domani Manuel c'è Gran Turismo 7 Con le livree Giulia che continua a mettere hamburger Dai dai Ce ne manca uno Amico mio Dai dai Morris Uno Sì è lì è lì Vai 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 Bravo No Due Quattro me ne manca Ma scusami Prima era No allora non ho capito Perché scusami Cioè Non si è capito Perché era uno di sei Non sei di uno Ma tu hai preso tre o quattro Di cerchi Ciao amici di Twitch Grandissimi Beh li fregati tutti Ah perché te li possono anche fregare No si è pagato a te No si è pagato a te Ah si è pagato a lui Ah si Sicuro No è successo come Marco No ancora No a te ma Ma papà Ah Allora no Morris questo è per te piccolo Giulia ha mandato tipo un cagliolino con il cuoricino Grande Giulia Bello Invece Verset Gli ha mandato una pizza con l'ananas La Giulia Basta Non finiremo mai più di parlare di mangiare Uh Aspettiamo che arriva Il mitico Maurizio Stai caricando? Grande Io devo ricordarmi di fare le emote Nel gioco E' caduto anche il drago raga C'ho due ventilatori addosso Com'è da te Maurizio? A livello caldo Caldo? No no No? Dove sto io a casa Ah Cambia Però Dove ho da per lavorare ai 40 gradi Come fai a resistere ai 40 gradi? Dai Ah Perfondo ha fatto 100 Sì Invece 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 Grande Allora Sono le 11 e 10 Dai famo l'ultima Ragazzi Perché Marco Dranz Games Sta già Praticamente Dormendo In live Oh se è veloce ne possiamo fare anche due Allora Morris devi mettere pronto Pronti 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 Sempre il solito mi sa che è un bug questo qua Perché Diciamo che in questo periodo non si tenga tanto la salute Ho fame e magno Brava brava Ciao Sharder Grande Sharder Sharder ha scritto qualcosa La livella finita Il vostro Sharder design va a nanna Ciao 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 Sharder Buonanotte Anche noi facciamo l'ultima Dai dai Bella l'ultima Morris e Maurizio Grazie per la live È stata fichissima Grazie per il ride Amico mio Bella lì E poi ci vediamo mercoledì Mercoledì ci vediamo con Morris e i suoi amici Credo Giuseppe Giovanni Porca loca Vedi che mi sono cascato Non lo faccio apposta te giuro Giovanni e un altro amico Che è Michele o qualcun altro Ci vediamo mercoledì 21 World C'è Michele però se non c'è Michele Sì Ne inviti un altro Chris o O qualche tuo amico Anche Chris è un po' che non lo vedo Come mai Sta studiando? È sempre fuori caso Ah Un altro amico Però ben buio Bello bello Ci sta Perfetto No perché se abbiamo il party Della play Sai che si sente anche meglio Piuttosto che fare quell'altro Dai che ci sono quasi Ma perché mi fanno cadere? Dai 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 Sono ridoccelonti io raga Voi? Ah 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 Bellissimo Cacchio che buio Cacchio che buio Sì Sesto Non ci posso credere ragazzi Sono giunto sesto Mai Mai Vai Vai Allora Vai 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 che culo tutti e otto ma si siamo in tanti siamo grandi siamo un gruppo un gruppo ho round finito però dai facciamo l'ultima ragazzi e vinciamo ok ci tengo è moris dai maurizio vinciamola questa sai che forse io proprio leonardo l'ha vinte ma io non ho mai vinto una cazzo una una gara su questo gioco io l'ho vinto tu si no io proprio personalmente non se l'ho vinto forse uno o due da quando è uscito bravissimo adesso spegniamo dai facciamo l'ultima prima di andare a letto vinco o maurizio ci ho fatto tipo 30 volte l'ultima patente quella sul bagnato di gran turismo con gli amici andrea e tutti gli altri che mi diceva phil no fai di lì frena prima frena un po prima o mi impegnavo e lo facevo non lo facevo volante pad niente da fare niente da fare domenica questa e ho detto c'è che faccio il filmato di un settaggio dell'audi no che mi ha passato kevin quindi c'è verso lì ho fatto il filmato del settaggio ciao ragazzi benvenuti settaggio bla bla si fa così così cosa poi ho detto prima di spegnere c'è che faccio una volta ti giuro è maurizio faccio una volta il la patente non l'ho mica imbloccata la prima però ho fatto un video è ho salvato ho fatto il video perché no è che che si scusami quella è stata epica ce l'ho fatta 50 volte in live niente faccio una volta prima di andare a mangiare che sono imbloccata cosa qui cosa qui tubo verde tubo verde che bordello che bordello però un po un bordello questa qui si capisce un po un po poco questa con i tubi si almeno a me è però ragazzi è un po preoccupante questa faccenda non adesso quando sarà gratuito gratuito vuol dire milioni di console milioni dico di pc milioni di mamma mia io non so se si che mi ha fatto bene a farlo gratuito eh boh ma io qui non ho capito ah bisogna andare di qua no 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 perché 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 ce l'hai fatta no mi sa di no ragazzi è troppa gente davanti a me anch'io mi sa che l'ho fatta brutta no qualcuno si è qualificato di noi bellissimo partito ragazzi siamo tutti morti tutti morti allora i ringraziamenti grazie moris grazie per aver giocato con me grazie maurizio grazie maurizio davvero è stato bello e sono due mesi che dovevamo giocare insieme maurizio ci siamo riusciti ci siamo riusciti amico mio con un gioco un po così insomma però ci siamo divertiti a meno io mi sono divertito va bene ringrazio moris ringrazio maurizio ciao belli dai ci vediamo mercoledì con te maurizio e moris va bene ci sentiamo anche fra cinque minuti su whatsapp che ti devo ringraziare dai ragazzi buonanotte a tutti buonanotte chat buonanotte nella live anche di di moris ciao a tutti da marco dananotte ciao a tutti ciao